Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovissimo video La Juventus è la regina del mercato con gli arrivi di Daniel Alves e Pjanic Anche l'Inter però con l'arrivo dei cinesi si sta muovendo sul mercato per rinforzare una rosa Che potrebbe essere, almeno dovrebbe essere competitiva almeno per entrare nei primi tre posti della classifica Ecco a voi tutti i papabili nomi di giocatori che potrebbero tornare utili al nostro progetto O almeno dovrebbero unirsi alla nostra rosa e quindi sbarcare nella parte nerazzurra di Milano Ecco a voi i nomi In porta, Sirigu Dopo un'annata storta, vissuta comunque alle spalle del portiere svizzero Burki Lo stesso Sirigu ha più volte ribadito di voler tornare in Italia Per prendersi il posto di titolare in qualche top club Dopo l'esperienza al Palermo infatti potrebbe esserci l'Inter in Serie A Che dovrebbe cedere Andanovic per una cifra intorno ai 15 milioni Se il Paris Saint Germain dovesse però cedere lo stesso Sirigu e probabilmente Burki in prestito Andrebbe a bussare le porte dell'Inter per avere Andanovic Quindi la sua offerta sarebbe un conguaglio economico di 7 milioni più Sirigu per Andanovic Perin Il portiere che sarebbe dovuto essere comunque il terzo agli europei Sta bruciando le tappe dopo il brutto infortunio dell'aprile scorso Se si vedrà gli europei con Marchisio questo resta ancora un rebus Ma comunque potrebbe comunque tornare utile all'Inter Sia come secondo portiere sia come primo nel caso in cui Sirigu dovesse restare in Francia In difesa abbiamo diversi nomi In particolare Bruma Che arriverebbe dal PSV a Eindhoven per un'offerta comunque non inferiore agli 8 milioni di euro Difensore giovane, fisico e con quella cattiveria agonistica giusta per affiancarlo uno come Miranda Sempre se lo stesso brasiliano dovesse restare in erazzurro Arriverebbe all'Inter solo nel caso in quale il Leicester di Ranieri dovesse acquistare Murillo A una cifra che non supera appunto i 20 milioni ma non è inferiore a 15 Quindi oltre comunque a prendere un difensore che secondo me ha più esperienza di Murillo L'Inter farebbe un colpaccio anche per quanto riguarda i soldi Risparmiando intorno ai 7-10 milioni di euro Vilegna Ho inserito anche questo giocatore nonostante il suo gran rifiuto all'Inter Alcune clausole e soprattutto un contratto non troppo ricco Hanno convinto quello che era un centrale di difesa poi riadattato mediano a interno di centrocampo A restare momentaneamente in Olanda Sulle sue tracce ci sono anche il Milan che lo vorrebbe a zero Il West Ham, lo Swansea e il Marsiglia Un giocatore comunque duttile e riadattabile ai vari ruoli del centrocampo Però se dovessero arrivare altri giocatori io sarei molto più contento Yaya Toure Su di lui ho già speso alcune parole in video precedenti Se dovesse arrivare arriverebbe comunque a zero Riducendosi un ingaggio che resta comunque faraonico per le casse dell'Inter Che dire, un mediano che può fare il trequartista e che ha un ottimo rapporto con Mancini Uno tra i giocatori più forti al mondo e sicuramente il centrocampista africano più forte di tutti i tempi Se dovesse arrivare all'Inter farebbe un colpaccio Speriamo che l'età, ovvero i suoi 33 anni, non lo blocchino nella sua fase di crescita Perché non potrebbe anche rivelarsi un flop come lo erano stati i giocatori ritenuti comunque tra i migliori Che poi sbarcando in un diverso campionato hanno trovato delle grandissime difficoltà Comunque Toure dovrebbe chiudere la trattativa che lo dovrebbe portare in nero-azzurro entro le prossime due settimane Lucas Biglia Su di lui avevo spesso delle parole per quanto riguardava il mercato, una sua eventuale arrivo in nero-azzurro nel mercato di gennaio scorso Senza l'Europa la Lazio comunque diventa un flop e quindi lo stesso Biglia vorrebbe provare a cambiare aria per mettersi in gioco con qualche altro club In particolare ci sarebbe sulle sue tracce sia la Juventus che però ha già preso Pjanic Sia l'Inter che giocherebbe l'Europa League e proverebbe a portare a Milano sponda nero-azzurro un giocatore cercato fin dai tempi dell'Underlecht Candreva Su di lui c'è anche il Napoli ma il giocatore romano o almeno di fede romana che gioca nella Lazio non mi chiedete neanche perché Ha più volte ribadito la volontà di andare all'Inter infatti lui preferisce la bene amata nero-azzurra piuttosto al Napoli Nonostante quest'ultimo giochi la Champions League Un'ala duttile che è nata come mediano a Cesena E' stato spostato come interno di centrocampo alla Lazio e negli ultimi anni si è dovuto ritrovare a fare anche l'attaccante Un giocatore che in nazionale cambia volto e quest'anno non ha vissuto un'annata molto felice alla Lazio Comunque uno di quei giocatori jolli del centrocampo che ti risolvono le partite e non non nulla Un giocatore fenomenale che secondo me all'Inter servirebbe soprattutto dopo un'eventuale cessione di uno tra Jovetic e Jaic Bruno Perez Lui l'ho inserito tra i centrocampisti perché comunque al Torino fa nel 3-5-2 l'esterno di centrocampo Indimenticabile il cost-to-cost nel derby di Torino Un giocatore che negli ultimi anni è maturato ed è diventato da semi sconosciuto a una delle garanzie al fantacalcio della Serie A Un giocatore che potrebbe ritornare utile se dovesse partire Alex Tejes Comunque un terzino a sinistra l'abbiamo già preso e questo è Derkin Quanto potrà servire Bruno Perez? Soprattutto Mijajlovic ha chiesto Eder in cambio di lui con il suo arrivo al Torino Ramirez Con il patto che si è venuto a creare quando il gruppo Suning ha acquistato l'Inter Lo stesso Jansu sarebbe interessato a prendere gli scarti nero-azzurri come Felipe Melo, D'Ambrosio, Nagatomo Per portare a Milano giocatori come Ramirez Ramirez mi è sempre piaciuto dai tempi del Chelsea Ottima accelerazione, ottimo mediano che può fare anche il trequartista Mi ricordo ancora quello splendido assist a Drogba nella semifinale di andata della Champions League del 2012 Quando giocava da trequartista solo alle spalle della stessa punta evoriana Indimenticabile anche quel bellissimo pallonetto con cui ha praticamente ammazzato la partita al Camp Nou Sempre nel ritorno della semifinale di Champions Un giocatore edutile che potrebbe rivelarsi utile in caso di mancato acquisto di Yaya Toure Alex Teixeira Tra i giocatori del Jansu Suning che potrebbero essere inviati all'Inter in cambio dei vari mail, D'Ambrosio e vari scarti C'è proprio Alex Teixeira Nello Shark Tardonez esploso Inspiegabilmente ha preferito i soldi a una carriera radiosa in Europa E' andato in Cina e potrebbe tornare in Europa dopo un solo anno Comunque un giocatore dotato di buon dribbling e il classico brasiliano dai piedi buoni Un giocatore comunque molto forte Jesus Un giocatore che a mio avviso è abbastanza forte Ho visto qualche skill e qualche video su Youtube Mi sono informato Vorremmo strapparlo alla Juventus In patria lo chiamano il nuovo Neymar Ma si sa, in patria chiamavano il nuovo Thiago Silva anche Juan Jesus Sarà comunque dispendioso Sarà comunque un giocatore che potrebbe costare troppo E' comunque una scommessa E soffiarlo alla Juve sarebbe anche un bene Come abbiamo fatto con Riman Ai Che comunque si è rivelato una scommessa azzeccata E infine abbiamo lui Zlatan Ibrahimović The god of football Anzi, the football's god Il dio del pallone Che dire, Ibra non ha ancora svelato dove andrà a giocare Probabilmente andrà a raggiungere Mourinho ai Red Devils del Manchester United Ma si sa, ad Ibra piace stupire E chissà, potrebbe tornare all'Inter Potrebbe andare al Milan Potrebbe addirittura ritirarsi E' un giocatore imprevedibile E la sua decisione arriverà nelle prossime settimane Ha comunque un buon rapporto con la città di Milano Molto più al Milan di quanto lo abbia all'Inter Però lì il Milan non gioca alle Coppe Europee E vive una situazione comunque abbastanza precaria Dal punto di vista societario E l'Inter potrebbe offrirgli una caterva di soldi Rinunciando a giocatori citati in precedenza Come obiettivi di mercato Che dire, se Ibra dovesse venire all'Inter Io sta per una bella bottiglia di Mouet Chandon Di spumante Perché veramente è una bella bottiglia di vino Perché sarebbe il vero colpo da 90 dell'estate nell'azzurra Ditemi cosa ne pensate di questi obiettivi Quali vorreste vedere all'Inter e perché E quali no Un saluto alla vostra Silverala